Ennesimo furto in un negozio in centro a Mortara. È avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel negozio di ottica sotto i portici in Corso Garibaldi, la via che porta alla stazione dei treni. I malviventi hanno frantumato la vetrina, portando via diverse paia di occhiali da vista e da sole. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Vigevano, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e le stanno analizzando per individuare i responsabili. Venerdì mattina la zona nei pressi del negozio di Corso Garibaldi è stata delimitata con un nastro per consentire l'operazione di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi. L'entità dei danni non è stata quantificata. Si recendono quindi nuovamente riflettori sulla sicurezza in centro a Mortara, un problema sollevato sia dai commercianti sia dalla politica locale. Di recente, in Consiglio Comunale, è stata votata e approvata una mozione presentata dalla minoranza della Lega per richiedere maggiori controlli nelle piazze e nei punti nevralgici della città. Tra le misure proposte dai consiglieri di opposizione Gerritaranto e dai Gigi Granelli, c'era anche l'istituzione di un daspo urbano, un provvedimento che, tra le altre cose, implica per i colpevoli il divieto di accedere ai pubblici esercizi o locali di intrattenimento, nonché di stazionare nelle vicinanze. Sulla sicurezza Mortara non sono state poche nelle ultime settimane le tensioni nella maggioranza guidata da Fratelli d'Italia, insoddisfatta dell'operato della giunta guidata dal sindaco Ettore Gerosa. Una giunta a cui ora si chiedono risposte più decise.